benvenuti in questo nuovo tutorial sono Danilo D'Antonio oggi ci occupiamo della compilazione di tre dichiarazioni la DOD la DOR e la DOC come prima cosa andiamo sul sito noi è io sono e clicchiamo sul bottone documenti scorriamo fino a trovare la DOD la clicchiamo e scarichiamo la versione in italiano e in inglese come potete vedere a questo punto torniamo indietro clicchiamo sul bottone DOC e scarichiamo come prima il documento sia in italiano che in inglese torniamo indietro un'ultima volta clicchiamo sul bottone DOOR e scarichiamo anche quest'ultimo sia in italiano che in inglese a questo punto abbiamo tutto il materiale necessario apriamo la cartella download dentro la quale troveremo i nostri documenti scaricati creiamo una nuova cartella sul desktop e la chiamiamo DOD DOR DOC all'interno della quale andremo a copiare i sei file che rappresentano i nostri tre documenti in italiano e in inglese fatto questo doppio clic su DOD in italiano la prima parte del documento si presenta uguale all'IM e come quest'ultimo andremo a correggere la data di nascita il nome il codice IM e la data di compilazione questo è un documento che merita una spiegazione aggiuntiva al punto H notiamo una differenza nel nome il primo nome è il nome di battesimo che ci è stato dato alla nascita con relativa data di nascita mentre il secondo nome è il nome che noi vogliamo attribuirci d'ora in avanti precisiamo che questa facoltà non è un obbligo è una scelta per ulteriori chiarimenti chiedete ai referenti della vostra terra che hanno già fatto i documenti nel caso abbiamo già deciso di non cambiare nome indicheremo lo stesso nome sia sopra che sotto la restante parte del documento non ha nulla di particolare rispetto all'IM lo compileremo firmeremo e sigilleremo con impronta esattamente allo stesso modo dopo aver modificato tutto il documento con i nostri dati notiamo che abbiamo ancora qualche porzione di testo evidenziata in giallo e colorata in rosso questo è il momento di fare un ricontrollo che tutto sia corretto a controllo effettuato possiamo selezionare tutto il testo in un sol colpo selezionando con il mouse dalla prima all'ultima riga o utilizzando una scorciatoia da tastiera su windows faremo ctrl a su mac command a con il testo selezionato togliamo l'iniziazione e il colore rosso i pie pagina e le intestazioni vanno corrette separatamente come visto nel tutorial precedenti a questo punto salviamo il file modificato la compilazione della dod in inglese come per tutti i documenti precedenti e successivi ricalca le modalità già viste nel tutorial dell'IM la compilazione di dor e doc segue le stesse modalità già descritte in questo tutorial ecco un esempio del documento scansionato con i sigilli e tutte le firme applicate in alternato per ulteriori domande sui documenti o se avete bisogno di ulteriore aiuto per la compilazione e l'invio non esitate a contattare i referenti delle vostre terre saranno lieti di aiutarvi per ogni difficoltà il video finisce qui vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo tutorial rahe su FX l'anni l'標ia l'anni l'anni l'��